buongiorno anzi buonasera a tutti e bentornati ai nostri webinar dedicati ai mercati finanziari e alle soluzioni di investimento per diciamo navigare in queste acque no che rimangono comunque ancora eh complesse quantomeno e oggi con noi due ospiti eh ho il piacere infatti di avere con me Riccardo Falcolini di Unicredit bentornato Riccardo ciao Michele grazie mille per l'invito buonasera a te ovviamente buonasera a tutti i partecipanti è un piacere ritrovarti e ritrovarvi infatti questo è il nostro primo webinar dell'anno no esatto primo webinar dell'anno eh sì esatto mi mancavate anche voi insomma prima eravamo abituati con una maggiore frequenza ci facciamo un considerare dai speriamo insomma che i risultati siano eh se non uguali almeno migliori di quelli dei webinar passati che andavano sicuramente molto molto bene e abbiamo cambiato un po' il format beh poi ci diranno ci diranno appunto i nostri amici ascoltatori e investitori come anche Carola ormai la conoscete la Carola Taglianetti la mia collega specialista prodotti Intermonte buonasera Carola e grazie ovviamente anche a te per essere con noi oggi ciao Michele ciao Riccardo e buonasera a tutti allora mh di cosa parliamo di cosa parliamo oggi eh beh facciamo prima sempre un po' di contesto di mercato per cercare un po' di quadrare la situazione non facilissima devo dire e poi andremo a vedere delle soluzioni di investimento che insomma a nostro avviso ben si sposano un po' col contesto eh attuale eh quindi di fatto prodotti diciamo mh abbastanza protettivi difensivi e eh ottimali per diciamo quella per mettere una porzione di portafoglio in strumenti che non sono direzionali mi vedete che guardo di lì perché ho messo il monitor di qua e quindi vedo le vostre slide che non è che sto guardando nel vuoto ma è perché ho le slide di lì che mi viene più comodo eh sullo schermo a destra vabbè quindi diciamo beh come potete vedere io parto sempre dal VIX perché è un diciamo un aiuta aiuta parecchio a capire un po' a che punto ci troviamo l'abbiamo chiamata tante volte no la volatilità se vi ricordate negli ultimi webinar dicevamo che appunto insomma una situazione di volatilità così eh così bassa eh per diversi mesi come è stata da inizio anno mh diciamo mh chiamava di fatto un rialzo della volatilità il VIX lo sapete questo indicatore del sentiment questo è per il mercato delle opzioni americane il Vistox è quello europee ma alla fine vanno di pari più o meno di pari passo ehm quando più scende il VIX e diciamo più il mercato è tranquillo no se vogliamo metterla in maniera molto semplice più invece sale il VIX e più insomma si scalda il mercato vogliamo dire che c'è qualcosa che non va c'è tensione sul mercato ehm quindi come vedete abbiamo avuto un bel picco del VIX che è tornato di nuovo sopra i trenta punti quella linea rossa che vedete in orizzontale è un primo livello di alert importante poi di nuovo siamo ritornati nuovamente verso il basso abbiamo rivisto i mercati soprattutto europei comunque di guadagnare strada verso appunto i eh i massimi che eravamo andati comunque a toccare prima di questa discesa eh e l'America invece devo dire continua eh continua a fare bene diciamo che un po' il tema che ha generato quella volatilità lo conosciamo no eh Riccardo è quello della stabilità finanziaria cioè purtroppo il il fattor comune è stato che tra rialzo dei tassi e drenaggio di liquidità da marzo considerate che è iniziato anche la BCE di fatto insomma eh un po' di problemi queste cose l'hanno l'hanno causata eh soprattutto ovviamente nei sistemi deboli particolare in America dove sono state deregolamentate questo con Trump eh le banche praticamente quelle non sistemiche quelle regionali che sono state portate da praticamente da sono state considerate non sistemiche da 50 a 250 fino a 250 miliardi di asset eh in portafoglio eh mentre ovviamente le altre sono sistemiche quindi sono stra regolamentate e di fatto cos'è successo? Beh queste banche qui i depositi li hanno investi hanno deciso di investirli in eh titoli di Stato a lungo periodo e col forte rialzo dei dei tassi sono andati in sofferenza eh purtroppo sfortuna ha voluto che giustamente gli americani vedendo quanto rendevano i titoli di Stato e soprattutto i fondi monetari che in America sono sono vanno molto sono importantissimi eh tra i fondi più 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 scambiati cioè più utilizzati più su cui si investe di più eh hanno hanno deciso giustamente di di passare dai depositi a eh a questi fondi monetari e quindi c'è stato prosciugamento di liquidità per le banche lo stesso vale ad esempio per le start-up eh molte come sappiamo no? Il caso di SQ Bank ma non solo molte eh banche regionali americane avevano appunto il problema di essere comunque di avere tanti clienti che erano start-up del titoli tecnologici americani ovviamente anche queste società con i tassi che salgono entrano in sofferenza hanno bisogno di liquidità si vanno a prendere i depositi e via depositi anche di qua quindi un deflusso già che era in atto di depositi eh con un problema eh appunto di avere eh di dover chiudere poi dei treasury che si stavano svalutando tantissimo per restituire i soldi e quindi da lì il sistema si è incliccato possiamo dire abbiamo visto che ci sono stati un po' di problemi problemi che devo dire ovviamente le banche centrali memorie del duemila e otto duemila e nove eh banche centrali e autorità ovviamente sono intervenute subito garantendo i depositi iniezioni di liquidità tra l'altro il QT che stava andando avanti è stato in parte anche annullato da queste ultime manovre che ha dovuto farla Fed eh di fretta vi ricorderete che tante volte abbiamo detto no? Che tra il rialzo dei tassi e il drenaggio di liquidità la cosa più rischiosa è il drenaggio di liquidità perché abbiamo sempre fatto l'esempio dei mutui no? Eh io vado a prendere a chiedere un mutuo eh beh chiaro se i tassi salgono eh beh non è che sono contento perché devo pagare interessi più alti ma se tu proprio i soldi non me li dai mi strozzi io la casa non la compro o se ho un'attività devo chiudere quindi questo è un po' no? Quello che che succede eh e quindi diciamo questo in America ha generato tutta una serie di problemi insomma importanti che conosciamo in Europa per fortuna l'Europa le banche europee sono molto più regolamentate da questo punto di vista quindi eh gli FRS sono da questo punto di vista molto più rigidi ma abbiamo avuto il problema di Credit Suisse che conosciamo bene che è stata comprata poi da OBS però bisogna dire che Credit Suisse era una banca che aveva già tantissimi problemi ed era in crisi da tanti anni quindi è stato un po' il colpo di grazia questo se vogliamo eh mentre per Deutsche Bank Riccardo lì è forse proprio più stato una questione di speculazione ora anche Deutsche Bank sicuramente ha problemi e e non per niente la speculazione è andata a mordere no? Come dire l'individuo più forse più debole della della cucciolata diciamo tra le banche tra le banche europee però in realtà probabilmente lì c'è stato un gioco della speculazione sui credit default swap eh di fatto appunto cos'è successo? Che sono andati a comprare questi credit default swap per far salire e farne salire il valore no? Approfittando di tutta questa confusione che c'era sulle banche prima avevano shortato il titolo Deutsche Bank quindi quando il mercato si incomincia ad accorgere che stava andando qualcosa male perché questi credit default swap che sono delle assicurazioni e di fatto eh sul sul rischio di credito no? Di una di una banca o di un'altra società ecco appunto quando il mercato ha visto questa cosa con tutto il pasticcio che che si stava verificando eh ovviamente è andata a vendere è andata a vendere e quindi chi era andava chi stava shortando eh capirete il titolo si è fatto un sacco di soldi da una parte probabilmente un po' anche dalla parte di CDS che ovviamente si sono apprezzati quindi va qui anche in RIA no? Che ha fatto ha detto chiaramente che insomma dovrebbe regolamentare questi eh questi CDS per evitare questo questi comportamenti scorretti in determinate situazioni se no non non è che avvengono sempre però in determinate situazioni ovviamente possono essere utilizzati quindi diciamo in Europa la situazione comunque è più sotto controllo sicuramente anche qui insomma ha fatto bene la banca svizzera che è intervenuto per quello che doveva fare quell'europea che ha garantito di essere pronte a intervenire se ce ne fosse bisogno in questo momento Riccardo il mercato tutto sommato no? Sembra essere ritornato più tranquillo qua vi avevo messo questa slide ecco per farvi giusto vedere la curva dei tassi usa in particolare come no? Nella parte a corto la parte a breve della curva vedete quanto è alto il rendimento no? Rispetto alla parte a lungo proprio perché c'è quest'inversione della curva che dovrebbe preannunciare appunto la recessione ormai direi anche probabilmente imminente potrebbe anche arrivare già tra il secondo e il terzo trimestre in America parlo e vedete appunto che siamo vicini a un 5% quindi il rendimento effettivamente di un treasury bill è veramente molto interessante e da qui appunto questo no? De flusso dei depositi verso fondi monetari e titoli di Stato quindi questo è un po' diciamo il quadro ovviamente mi sono dimenticato di dirlo però vale sempre per farla anche un po' più divertente per noi fate domande non siate timidi qualsiasi cosa poi vedremo anche un sacco diciamo di prodotti diciamo soffermiamoci discutiamone dateci anche il vostro parere intervenite con totale libertà tanto per chi ci conosce ci segue sa bene che a noi piace soltanto e compreso ovviamente anche il buon Riccardo quindi questa è la curva di tasse se vogliamo vedere un po' di analisi tecnica che so che piace sempre beh comunque diciamo in livello generale tutto questo comunque era un po' aspettato se possiamo se vuoi ancora comunque contestualizzare sì esatto cioè ormai comunque si parlava da tempo di quello che o di quello che poteva essere il potenziale ribasso no quindi era un po' aspettato forse non in questi termini non questa non con questa violenza se così possiamo dirlo e in un orizzonte temporale molto molto corto quindi qualche giorno di volatilità qualche giorno di ribasso però comunque era un qualcosa di atteso poi ovviamente ci sono stati una serie di fattori e una serie di concomitanze che hanno comunque accentuato il movimento però come dicevi giustamente tu poco fa guardando il nostro indice per esempio per fare un esempio siamo diciamo ritornati nuovo sui 27.200 punti circa quindi insomma sembra che si sia un attimo tranquillizzato stabilizzata la situazione poi ovviamente non sappiamo che questo succederà però tendenzialmente insomma sembra che sia un po' calmirata sì secondo me infatti è un po' da capire quello che il mercato sta cercando di capire ma visto che in America ancora di fatto non hanno trovato una soluzione alla ricapitalizzazione di queste banche perché le banche più grandi dicono la palla non la darà a me non la qualcuna quindi diciamo non è che sono molto collaborativi ma si può anche capire effettivamente è ancora no come dire scoperta la ferita quindi ancora da capire come si andrà a risolvere in Europa è vero che siamo più regolamentati siamo sicuramente quindi diciamo in teoria più tranquilli ma è anche vero che in Europa l'inflazione core continua a salire e anche qua se le banche centrali e la BCE dovesse appunto proseguire con il rialzo dei tassi non sappiamo come può evolvere la situazione non me lo aspetterei magari subito magari tra qualche mese ma potremmo vedere di nuovo qualche problema di stabilità finanziaria anche da questa parte il problema è che come tanti operatori cercano di capire e non si capisce cioè almeno purtroppo non abbiamo la sfera non si capisce se quello che abbiamo visto è un po' una punta di un iceberg oppure se effettivamente la situazione è ormai sotto controllo il mercato questo poi andiamo a rivedere il mercato americano questo vedete il Futsi Nib era più so per far vedere un indice europeo come diceva giustamente Riccardo abbiamo avuto e lo abbiamo detto anche tante volte nei webinar precedenti questo forte movimento rialzista che non era molto sano cioè questi sono dei movimenti non strutturali ma molto frutto dell'ottimismo dell'entusiasmo che insomma era difficile pensare che potessero infrangere una resistenza così forte come 28.000 punti di botto cioè così mi avrebbe stupito parecchio la cosa e infatti poi da una ragione piuttosto che da un'altra insomma la scusa ai mercati la trovano sempre per per poi fare quello che ci si aspetta e in questo caso appunto era generare un po' di volatilità anche perché come abbiamo visto prima il VIX ce lo diceva ormai era troppo tirato quindi abbiamo avuto questa questo primo colpo di volatilità poi adesso stiamo recuperando abbiamo superato anche 27.000 punti devo dire anche neanche troppo aspettatamente mi sarei aspettato ancora un pochino di volatilità magari non fortissima però ancora un pochino di volatilità quindi il potenziale l'indice anche per riprovare a testare 28 potrebbe anche averlo il movimento a rialzo non è fortissimo quindi mi sembra che si va avanti però sempre un pochino sull'attenti quindi bisogna vedere se non escono notizie particolari nei prossimi giorni barra settimane però diciamo sicuramente è una situazione che sta ritornando verso la normalità o comunque così percepito dal mercato in Europa in America ecco in America qua possiamo fare anche un ragionamento diverso questo è l'S&P 500 vedete con forza ormai va sta andando a prendere i 4200 punti primo livello di resistenza ma non è detto che non si vada anche sopra al massimo precedente quindi area 4300 preferisco far vedere il Nasdaq mi piace di più perché secondo noi comunque la situazione che si è venuta a creare che potrebbe generare un credit crunch o comunque quantomeno diciamo un calo della disponibilità una forte calo della disponibilità delle banche parlo soprattutto in America di prestare soldi all'economia reale potrebbe accelerare per quello che parlavamo ancora della recessione magari a breve infatti la curva dei tassi che ritorna in diciamo in stipening rispetto a prima velocemente adesso qua non ve l'ho messa però se andate a vedere lo vedete ci dice un po' quello sapete che la curva anticipa parecchio il movimento di fatto ti sta dicendo di un ritorno alla normalità quindi come se avesse già scontato ormai la recessione e quindi queste sono indicazioni del fatto che appunto potremmo essere vicini ma come sapete in quel caso il mercato incomincia a fare il ragionamento inverso l'abbiamo detto tante volte cioè se si avvicina una recessione allora le banche centrali torneranno un po' più accomodanti saranno costrette e quindi liquidità magari si tornerà più avanti a tagliare i tassi e quindi di conseguenza chi ne guadagna sono parecchi titoli titoli grow e quindi capite che il Nasdaq ovviamente è il primo in classifica questo per chi vuole fare diciamo dello stock picking su diciamo indici piuttosto che titoli niente poi Fuzzimi l'abbiamo visto quindi diciamo la situazione è una situazione che momentaneamente sembra tornare diciamo più sotto controllo però attenzione perché ci sono tanti punti di domanda e tanti incognite e non è detto che se aprile è un mese positivo per le borse statisticamente quindi se non dovessero esserci insomma altre notizie negative dovrebbe tutto sommato potrebbe tutto sommato andare bene il mese di aprile però ricordiamoci che poi insomma maggio giugno sono mesi tendenzialmente burrascosi volatili e ci si ci sono anche le condizioni affinché appunto per quello che abbiamo detto si riveda volatilità sui mercati allora detto questo Riccardo proviamo a vedere invece delle soluzioni perché a questo punto sono due le cose o ovviamente se uno vuole investire in maniera direzionale a nostro avviso può andare sul grono quindi su titoli e vabbè e lì ovviamente lo fai o comprando titoli o indici tramite ETF quello che si vuole altra alternativa comunque altre soluzioni da aggiungere in portafoglio sono quelle invece non direzionali che ti vanno un po' a limare anche la volatilità del portafoglio e come sappiamo i certificati insomma noi parliamo molto spesso sono uno strumento ottimale in particolare insomma oggi abbiamo con noi appunto Unicredit che ha fatto una serie di missioni che vanno proprio in questa direzione ovvero della non direzionalità di chi non vuole essere direzionale gioco di parole veramente tristissimo però comunque vediamo con te magari le ultime soluzioni che voi state proponendo ecco io ho visto sul vostro sito che l'ultimo in particolare che avete fatto sono dei Maxi Cash però hanno una struttura particolare hanno una struttura particolare leggermente diversa dal solito non so se per caso vuoi passarmi il controllo così facciamo giusto vedere un po' il sito per dare un attimo una view un po' generale Mick così per chi magari non conoscesse Unicredit in qualità dimittente ha la possibilità anche insomma di capire cosa facciamo allora noi siamo l'emittente forse più storico sul panorama italiano dal punto di vista dei certificati io rappresento appunto Unicredit sono un sales appunto di certificati e in qualità dimittente cosa facciamo tendenzialmente guardiamo un po' quello che succede sul mercato quindi sui segmenti SEDEX o Certix di Euro TLX cerchiamo di capire quelle che sono le esigenze della clientela e di conseguenza strutturiamo prodotti noi al momento quotiamo più di 6.000 prodotti contestualmente sono suddivisi tra prodotti di flusso che appunto diciamo sono costituiti prevalentemente dai covered warrant e dai prodotti a leva quindi turbo open e close end e poi i prodotti di investimento tendenzialmente i segmenti su cui vengono negoziati sono due sono o il SEDEX oppure l'Euro TLX di Borsa Italiana e come dicevi tu Mic ultimamente ci siamo un po' sbizzarriti quelle che sono appunto le strutture di prodotti di investimento tendenzialmente però ricercando prevalentemente una maggiore protezione rispetto a quello che erano le strutture emesse fino allo scorso anno fino a 2022 quindi abbiamo preferito prodotti o con barriere molto profonde i cosiddetti low barrier oppure siamo andati su strutture con effetto airbag o con premi fissi incondizionati e oggi li vedremo tutti e oggi li vedremo tutti esattamente poi andremo a vedere anche gli altri esatto allora ti faccio vedere intanto faccio vedere a te un po' a tutti dove poter trovare le ultime emissioni quindi questo è il sito il nostro sito www.investimenti.unicredit.it nella sezione centrale trovate il box delle nuove quotazioni e poi cliccando su quello che è il link fondamentalmente del link relativo alla descrizione prodotto tra virgolette accedete ad una descrizione sintetica appunto dell'emissione e poi cliccando qui su caratteristiche prodotti a diciamo la brochure dell'emissione io l'avevo già aperta perché sapevo fondamentalmente che saremmo andati a trattare questo argomento proprio perché fa riferimento alla nostra ultimissima emissione e quali sono le caratteristiche principali e cosa facciamo noi tendenzialmente allora noi tendenzialmente come unicredit facciamo due emissioni l'anno di maxipremio una appunto che avviene a metà barra fine marzo con pagamento del maxicoupon a giugno giugno barra luglio e poi la seconda emissione dell'anno la facciamo a luglio con pagamento del maxicoupon a novembre qual è tendenzialmente l'obiettivo del maxicoupon quello di fondamentalmente permettere alla clientela o di incassare una cedona un po' più consistente come primo coupon oppure quello di andare a compensare le minusvalenze allora noi lo ricordiamo sempre insomma che quello se il cliente ha come obiettivo quello di compensare le minusvalenze è bene che imposti questa strategia di compensazione in modo secondo me ordinato e organizzato durante l'anno quindi non bisogna correre e compensare le minus a novembre per quelle che sono le minus appunto che scadono a dicembre dell'anno perché altrimenti cosa succede succede che ci si deve un po' accontentare dei prodotti che ci sono e anche dei prezzi perché se un'emissione è partita a luglio e mi stacca la cedola a novembre o a dicembre io decido di acquistare un prodotto a novembre o a dicembre dovrò acquistare quel prodotto al prezzo che fondamentalmente trovo sul mercato quindi diciamo già impostare una strategia che può essere una strategia di protezione e rendimento ok quindi cerco di capire quelle che sono le mie strutture e poi cerco di capire anche quella che è fondamentalmente la componente cedolare che mi interessa è sicuramente una strategia vincente c'è da dire come dicevi tu Mick che insomma il certificato è lo strumento diciamo principe nel senso per chi appunto non voglia prendere direzionalità su un determinato settore su una determinata stocks o quant'altro perché grazie al rendimento asimmetrico permette fondamentalmente di incassare una una componente cedolare in tre situazioni di mercato differenti stabilità dei sottostanti quindi assoluta lateralità moderato rialzo moderato rialzo scusate che è la situazione più favorevole in realtà e poi moderato di basso nei limiti delle barriere di protezione e qui diciamo entra in gioco facendo un po' avendo fatto tutto questo cappello entra in gioco la nostra ultima emissione che sono appunto questi maxi premio con un premio condizionato alla premio iniziale condizionato come si vede nella brochure premio condizionato alla barriera ovviamente che verrà pagato a giugno 2023 successivamente e qui un po' la diversità rispetto alle nostre precedenti emissioni un premio incondizionato trimestrale e possibilità di autocoll a partire da dicembre 2023 autocoll con effetto step down cosa significa autocoll con effetto step down allora l'autocoll è quel fattore che da che è inserito o meglio quell'opzione che è inserita all'interno del certificato dà all'emittente la possibilità di richiamare il certificato a determinate date prestabilite in questo caso non è una possibilità ma in realtà è un richiamo automatico cioè se si verifica la condizione di autocoll alla data predeterminata il certificato viene richiamato in automatico e questo non deve essere visto ovviamente come un aspetto negativo per il cliente in realtà in quanto l'emittente rimborsa il valore nominale più l'eventuale coupon di competenza del mese o del trimestre o del semestre ovviamente che è di spettanza ovviamente quale può essere l'elemento negativo e che bisogna poi un attimo ri-ingegnarsi o comunque andare a guardare i mercati e trovare un'alternativa per allocazione per allocare quei soldi che l'emittente ci ha restituito quindi è una struttura fondamentalmente diciamo molto semplice come quella classica dei cash collect che prevede una scadenza a marzo 2026 qualora appunto non sia stato richiamato in anticipo e a marzo 2026 si potranno verificare due scenari tutti i sottostanti si trovano di sopra la barriera allora in quel caso noi rimborsiamo quindi l'emittente rimborsa 100 più il premio se i sottostanti invece dovesse trovarsi sotto la barriera si prenderà in considerazione la performance del peggiore verrà osservata la performance peggiore quindi insomma diciamo il rimborso sarà dettato dalla performance del titolo peggiore e in più sarà pagato l'ultimo coupon quindi in questo caso in quanto siamo in corrispondenza di coupon incondizionati questi sono sempre basket worst off dove pesa prevalentemente quello che è il peggiore titolo del basket e ovviamente noi quando strutturiamo strutturiamo su vari come potrete vedere strutturiamo ovviamente su vari panieri che possono essere più o meno rischiosi con una cedola che può andare semplicemente prendendo in considerazione maxi cedola tra il 18 e il 15% e una cedola successiva che può andare dallo 0,55 fino all'1,80% quindi dicevo diversi basket varie tipologie di rischiosità e ovviamente un po' per tra virgolette tutti i gusti ma soprattutto per tutte le propensioni insomma a rischio perché in realtà quello che dovrebbe guidare nella scelta di un prodotto è la propensione a rischio non tanto il rendimento quanto fondamentalmente l'esposizione massima che si vuole e quindi se io so che sono un soggetto magari avverso a rischio però voglio prendere in considerazione questo prodotto allora dovrò scegliere un paniere un po' meno volatile un po' più conservativo tendenzialmente poi ovviamente come dicevamo non istrutturiamo tanti di prodotti quindi insomma un po' al cliente finale quella che è la scelta quella che è la scelta insomma finale anche in considerazione di quello che è il portafoglio già preesistente ottimo ottimo quindi diciamo un prodotto ovviamente poi sempre molto utilizzato per la compensazione delle minus come giustamente dicevi tu ma che insomma punta molto sul dare un grande rendimento subito poi come vedete ovviamente il rendimento si abbassa in maniera consistente successivamente non so se voi ne prendiamo in considerazione uno magari io ne ho selezionato uno poi vediamo magari se Carola lascerei magari farla far a Carola magari Carola se mi riassegno il ruolo di relatore se riesci a condividere lo schermo allora si lo vedete mi pare di si ok questo vai Carola a te allora dall'emissione che appunto ha parlato Riccardo abbiamo scelto questo prodotto che replica un paniere composto da assicurazioni generali banco BPM intesa San Paolo e Nexi quindi diciamo che il settore finanziario e abbiamo due banche quindi intese banco BPM e poi le assicurazioni e un Nexi che si occupa appunto dei sistemi di pagamento allora in questa slide ho riportato il consensus degli analisti che vede sono sostanzialmente positivi su tutti i titoli in particolare su banco BPM intesa San Paolo e Nexi però sono comunque interessanti e positivi gli upside su tutti e quattro i titoli importante in questa slide potete vedere la matrice di correlazione e la volatilità che sono due parametri fondamentali nella strutturazione appunto dei certificati in questa matrice di correlazione possiamo dire che i titoli sono la correlazione mista perché allora abbiamo intesa San Paolo che è ben correlata sia con assicurazioni generali e sia con banco BPM mentre è meno correlata con Nexi infatti diciamo che l'indice di correlazione più alto è lo 0,80 mentre quello più basso è lo 0,45 quindi probabilmente di fatto se guardate la colonna di Nexi vedete come sia quello il titolo meno correlato perché poi tutto sommato gli altri hanno tra di loro una buona correlazione effettivamente esatto esatto e invece la volatilità implicita un anno quella più diciamo quelle più allevate sono quelle di banco BPM e quelle di Nexi su queste su matrice di correlazione e volatilità implicita Unicredit ha strutturato questo prodotto come ha detto prima appunto Riccardo questo prodotto paga un maxipremio condizionato a giugno del 18% del valore nominale che è condizionato a un livello barriera posto al 60% appunto dello strike una volta staccato il maxipremio comunque il prodotto continua a pagare premi trimestrali che questi invece sono incondizionati ovvero che vengono pagati indipendentemente dall'andamento appunto dei sottostanti che sono pari allo 0,7% questo prodotto come appunto avevi detto anche tu Riccardo prevede la scadenza anticipata con effetto step down da dicembre 2023 e la durata è di tre anni qui ho riportato anche la situazione attuale presa poco fa un'oretta fa e mostra come tutti i sottostanti si trovano al di sopra appunto dello strike però diciamo che è interessante anche magari analizzare lo scenario a scadenza se vuoi Riccardo ti passo la parola e commentiamo insieme questo questa tabella sì illuminaci allora in realtà questa è FonteCedLab ve l'avevo passata insomma questa mattina e fa vedere come fondamentalmente allora diciamo in realtà carola Michele questa è proprio la rappresentazione diciamo in campo visivo se possiamo dire così emblematico di quello che è il rendimento asimmetrico cioè se noi vediamo quindi abbiamo la prima riga divisa in rosso un grigetto e verde in corrispondenza al grigetto c'è lo zero quindi una variazione fondamentalmente in variazione del sottostante quindi cosa avremmo? avremmo fondamentalmente un rendimento positivo del 22 circa per cento in caso di andamento positivo avremmo fondamentalmente lo stesso rendimento in caso di andamento negativo fino a meno 44 per cento della barriera quindi tenendo conto di quello che è il worst off avremmo comunque un andamento positivo e poi da almeno 50 in poi avremmo un rendimento negativo qual è il punto? cioè cosa fa capire questo? fa capire l'analisi di scenario come fondamentalmente il prodotto il prodotto in questione permetta di avere un rendimento positivo in tre situazioni in tre contesti di mercato differenti quindi lateralità rialzo e ribasso ovviamente ribasso nei limiti della barriera perché se andiamo oltre la barriera ovviamente si perde la protezione del capitale quindi fa capire cosa fondamentalmente come i certificati debbano essere utilizzati all'interno di un portafoglio per andare a calmerare situazioni di volatilità e per andare fondamentalmente a nettare magari delle situazioni negative o delle potenziali situazioni negative future quindi se io dovessi comprare uno stocks o un indice o qualsiasi altro strumento sarei ovviamente soggetto al ribasso di mercato inserendo il certificato all'interno di un portafoglio che poi quello che diciamo sempre in realtà questo prodotto mi permette di andare a calmerare situazioni negative ed incassare potenzialmente dei rendimenti costanti insomma poi questa è una struttura particolare che ha una caratteristica cioè quella di pagare un coupon più consistente inizialmente quindi permette anche lato fiscale di insomma di assolvere alla funzione di compensazione delle minus in modo consistente con il primo coupon però diciamo che questa fondamentalmente è una presentazione secondo me molto interessante su quello che è appunto il potenziale rendimento a scadenza del prodotto ovviamente è una situazione che noi abbiamo cristallizzato questo pomeriggio ma è una situazione che si evolve in base all'andamento del sottostante peggiore domanda Riccardo nel profit and loss in percentuale del certificato immagino ci siano tutte le cedole minimaxi si si vengono considerate le cedole considera che premetto non lo facciamo noi non è analisi di scenario di credit è di certificati derivati noi facciamo una roba simile però invece di solito noi non se le cedole non sono incondizionate noi non le consideriamo però vabbè lì sono poi ognuno poi fa l'imposta come preferisce quindi era giusto per capire se appunto in questo caso invece era considerato tutto perfetto si vengono considerate le cedole ovviamente chi vuole poi può approfondire sul sito di certificati derivati c'è dell'abpro in questo caso e può eventualmente verificare quelli che sono analisi di scenario insomma poi comunque è un'analisi insomma che potenzialmente si può fare ci si può fare anche un po' smanettando con un excel no? si deve insomma ci si deve perdere un po' di tempo però secondo me anche questo perdere un po' di tempo permette soprattutto mica i consulenti magari in questo caso di capire come magari poter utilizzare il certificato cioè facendo una simulazione di quelli che sono scenari futuri vedere come si può evolvere un portafoglio e come può essere utilizzato un certificato all'interno del portafoglio per nettare un po' la volatilità ok perfetto quindi diciamo sul maxi direi che ci hai spiegato bene abbiamo visto anche un caso pratico sul sistema bancario perché sicuramente ha senso sul sistema bancario non certificato o meglio su diciamo titoli finanziari proprio perché abbiamo detto andiamo su titoli classici value comunque impattati eventualmente da recessione quindi ci sta a farlo con dei prodotti a barriera quindi non direzionali o comunque meno sicuramente di avere il titolo però avete fatto dei prodotti che sono ancora più difensivi molto più difensivi del maxi cash collect ad esempio ecco questo forse tra tutti è un piccolo panzer no? cioè un piccolo cararmatino per chi proprio vuole andarci più sicuro sono i fixed cash collect con airbag qua ti chiedo magari di spiegarmi ovviamente che cos'è il fixed e soprattutto che cos'è l'airbag sì assolutamente allora tutte queste brochure che io faccio rivedere sempre Michele e Carola ovviamente come sapete sono ritrovabili sul sito quindi faccio vedere come nuovamente giungerà la brochure basta andare sulla home page del nostro sito e poi andare a ricercare quelle che sono le ultime missioni lo potete fare di qui quindi 10 nuovi airbags fixed cash collect oppure nella sezione info avvisi quindi un percorso un po' più lunghetto nuovi prodotti qui avete tutte le emissioni sia di flusso che di investimento dell'anno 2023 e anche degli anni precedenti se ci volessimo soffermare un attimo sull'ultima emissione di fixed con airbag e volessimo parlare di questa appunto noteremmo cosa come appunto inserendo fondamentalmente l'elemento airbag all'interno di un fixed rende la struttura ancora più difensiva perché perché allora il fixed cosa fa paga premi fissi paga premi fissi indipendentemente dall'andamento esatto incondizionato poi il premio può essere mensile trimestrale semestrale annuale cioè insomma l'emittente può strutturare insomma come meglio crede noi in questo caso li abbiamo strutturati con frequenza mensile quindi pagano indipendentemente all'andamento del sottostante hanno una maturity quindi una scadenza finale a marzo 2026 quindi questi prodotti sono stati emessi all'inizio di marzo 2023 quindi un mesetto fa quindi se vedete la tabellina con quelli che sono fondamentalmente gli anali l'analisi di scenario quindi cosa può succedere nelle varie date di osservazione vedete come questo prodotto pagherà appunto una cedola in modo incondizionato e poi eventualmente potrà essere richiamato in anticipo o meno secondo quello che è appunto la logica dell'autocollability se non dovesse giungere se non dovesse essere appunto richiamato in anticipo Michele e dovesse giungere a scadenza diciamo si può attivare quello che è il fattore airbag e ben descritto in questa formuletta che lascio eventualmente a vedere e a commentare un po' cioè leggere un po' a chi ci segue però cosa succede il fattore airbag o in cosa consiste il fattore airbag il fattore airbag quindi poi facciamo vedere anche un po' il proseguo dei prodotti il fattore airbag si attiva in caso pensate ad un'auto un'automobile qualsiasi che sfortunatamente fondamentalmente fa un incidente ok quindi in caso di elemento negativo quindi si attiva l'airbag è una sorta di paracadute è una sorta di cuscinetto quindi qualora si dovesse giungere a scadenza del prodotto quindi il certificato non venga mai richiamato in anticipo se giunga a scadenza del prodotto ma uno dei sottostanti si trovi al di sotto di quella che è la barriera di protezione del capitale allora si attiva l'airbag quindi c'è stato l'incidente diciamo esatto c'è stato l'incidente quindi di conseguenza cosa succede succede che la formula classica di rimborso di un prodotto che ha rotto la barriera come prezzo di riferimento del sottostante alla data di valutazione finale diviso lo strike iniziale molto semplice per cento perché che è il valore nominale in questo caso con l'airbag il denominatore non è più lo strike iniziale ma si tiene conto della barriera di quello che è il posizionamento della barriera quindi si tiene in conto di quello che è il valore di riferimento la data finale diviso la barriera e capite come una barriera che può essere posta al 60 o al 50 per cento del fixing iniziale è notevolmente protettiva quindi avere un denominatore che è il 100 per cento piuttosto che avere un denominatore al 50 per cento o al 60 è sicuramente un qualcosa che attenua notevolmente quelli che sono appunto il rimborso ovviamente negativo quindi in questo caso il rimborso non è più lineare come nel caso precedente ma è un rimborso che ovviamente risente in modo positivo del del fattore airbag poi anche in questo caso noi ne abbiamo strutturati circa 10 se non erro ecco 1 2 3 li contiamo insieme era scritto sul sito però li rivediamo 1 2 3 4 5 vedete ci sono tanti sottostanti tanti panieri e in base al paniero alla rischiosità abbiamo un premio sempre incondizionato che può andare dallo 0 85 fino allo 0 45 anche in questo caso quale scegliere noi non possiamo mai dire scegli uno investitore piuttosto che scegli l'altro perché dipende sempre da quella che la composizione di portafoglio dipende da quelle che sono proprio obiettivo finanziario certo sicuramente a rischio ma certo c'è sicuramente a ricordi logica un investito dovrebbe scelgo quello da 0 85 perché mi rende maggiormente sì però per strutturare con 0 85 cosa ho messo dentro ho messo Tesla Stellantis Ford e Volkswagen che comunque soprattutto Tesla è un titolo che si muove molto e l'emittente ovviamente per dare spinta in termini di premio deve aver bisogno di un componente insomma che regga è sempre un rapporto quindi fondamentalmente in questo caso io dico sempre ricordo sempre attenzione ovviamente quando scegliete il prodotto ma è far singolosire solo dal rendimento beh se vi ricordate bene questo è capitato prevalentemente nel 2021 quando nei portafogli c'era quando si strutturava tanto su Beyond Meat Beyond Meat veniva allargamente utilizzata poi Beyond Meat è crollata e molti portafogli sono stati un po' penalizzati da questo perché? perché ci si faceva un po' ingolosire dal rendimento allora io direi magari sicuramente il rendimento è un fattore di elevato importanza però magari sui certificati con sottostanti un po' più rischiosi pesateli leggermente meno così bilanciate un po' mi fanno una domanda ma che secondo me è interessante anche perché ti dò spero di saper rispondere no ma sì sicuramente ecco l'airbag quindi è una protezione a scadenza per il capitale ma per le cedole? in questo caso sono cedole incondizionate vengono pagate indipendentemente dall'andamento del sottostante quindi se non fossero state invece incondizionate l'ultima cedola non l'avresti presa no? no esatto quindi questo prodotto ha anche questo vantaggio diciamo esatto come si vede qui è scritto una brochure premio incondizionato quindi paga sempre il premio incondizionato o comunque anche in caso di scenario negativo e poi eventualmente se si attiva l'airbag è un fattore di protezione di protezione ulteriore come dicevi tu giustamente Michele se abbiamo un premio condizionato alla barriera e la barriera viene infranta allora in quel caso la cedola non viene pagata esatto un po' come il one star che anche lì alla fine aiuta a proteggere il capitale però la cedola se non la la perdi l'ultima insomma e quindi anche se non hai ricevuto cedole precedenti e arrivi a scadenza poi non hai non hai più la diciamo la memoria che ti aiuta e Enrico poi un'altra domanda che ci è arrivata prima te la faccio adesso visto che ti ho interrotto con le domande domanda comprensibile che è quella sul rating dell'emittente quindi diciamo voi come siete messi rispetto a tutta questa diciamo situazione delle difficoltà bancarie eccetera se puoi dare un po' di colore anche su questo ma allora sì anche qui questo è un elemento molto importante dal punto di vista dal punto di vista della scelta dell'emittente in senso perché come sai benissimo vediamo se riesco a ritolare il rating sinceramente non lo ricordo a memoria chiedo venia insomma però è tutto rinvenibile nelle final terms quindi nelle condizioni definitive anche in questo caso attenzione al momento in cui si sceglie un prodotto di un emittente piuttosto che di un altro perché perché insomma dovendo fondamentalmente essendo soggetto a rischio emittente più l'emittente è affidabile e più di conseguenza il prodotto è sicuro allora insomma io non posso commentare ovviamente sai noi abbiamo comunque delle policy per cui non posso commentare situazione aziendale però diciamo che comunque in Italia i due istituti principali sono intesi a unicredit fondamentalmente mi auguro che una situazione di debolezza sul mercato sul panorama finanziario non vada a toccare nell'una nell'altro no perché perché poi comunque ci sarebbero ripercussioni complessive sulla situazione italiana detto questo è un discorso molto generale insomma è un discorso molto generale ma dobbiamo dire che comunque le banche italiane unicredit in primis ha fatto un forte dei rischi quindi hanno strutture patrimoniali molto più solide rispetto ad anni fa e questo va detto quindi da questo punto di vista possiamo essere orgogliosi delle nostre delle nostre banche che hanno fatto un gran lavoro anche un duro lavoro ha sofferto in alcuni casi ovviamente perché chiaramente fare del risking poi significa magari tagliare i costi eccetera quindi però hanno fatto un lavoro importante tale per cui anche come dicevo all'inizio l'Europa è un po' più tranquilla rispetto all'America e l'Italia devo dire è messa comunque è messa comunque bene però come al solito forse Riccardo il suggerimento migliore è diversificare anche per emittente in modo tale da non concentrare tutto su un emittente perché ovviamente come sapete diciamo il certificato è assimilabile a un'obbligazione senior unsecured quindi di fatto comunque a rischio emittente ce l'abbiamo tutto in capo andrei con i prodotti allora Ricc magari vediamo facciamo un esempio Carola di che cosa ci parli eccolo qua esatto dalla brochure abbiamo scelto questo prodotto che punta di fatto sull'Italia in particolare su Eni Enel Leonardo e Stellantis quindi anche un paniere diversificato perché sono titoli che appartengono anche a settori diversi qui in slide troviamo sempre il consensus degli analisti che qui sono tutti positivi su tutti e quattro i sottostanti e riporto anche la matrice di correlazione e la volatilità devo dire che anche noi di Leonardo siamo positivi su questi titoli qua quindi cioè scusami anche noi di Intermonte scusate dicevo Leonardo e ho detto Leonardo perdono perdono qui potete vedere la matrice di correlazione che rispetto al paniere di prima qui la correlazione è ancora più bassa perché comunque l'indice di correlazione più alto è lo 0,48 tra Eni e Stellantis ma è spiegato anche dall'appartenenza appunto a diversi settori la volatilità implicita più alta è quella di Leonardo con un 32% quindi date queste condizioni Unicredit ha strutturato questo prodotto che è un fixed quindi paga primi mensili incondizionati dello 0,45% appunto del valore nominale anche questo prodotto come con lo precedente prevede la scadenza anticipata da dicembre 2023 sempre con effetto step down la scadenza è tra tre anni quindi nel 2026 il livello barriera qui fa riferimento solo al rimborso del capitale che è fissato al 60% dello strike e sempre al 60% è l'effetto airbag qui abbiamo sempre la fotografia dei sottostanti e al momento sono tutti sopra strike tranne Stellantis che si trova a un meno 4% dal livello di strike però in questo caso proprio come ha detto prima Riccardo che non ha un payoff lineare a scadenza io andrei a analizzare lo scenario proprio a scadenza Michele se vai avanti di una slide così lo commentiamo insieme a Riccardo facciamo prima un esempio facciamo un esempio Riccardo guidami un po' tu abbiamo parlato di airbag vediamo se sono bravo a fare i calcoli vediamo allora ok facciamo un esempio esatto impotizziamo di avere questo prodotto qua ipotizziamo questo abbiamo una barriera al 60% giusto? ipotizziamo facciamo un esempio semplice ipotizziamo che a scadenza prendiamo Stellantis che sta perdendo di più dai va bene bravissimo facciamo che anche io avrei preso quello chissà perché immaginiamo che quindi Stellantis a scadenza mi faccia un meno 50 giusto? quindi sono sotto barriera il certificato classico classico quindi il normale memory cache collect mi dovrebbe pagare 50 euro giusto? sì allora facciamo anche se vuoi fare il conteggio proprio come si fa classico di quello che si dovrebbe fare com'è allora o fai la performance quindi a presto di 50 mi rimborso il 50 oppure si può fare la formuletta e questo può aiutare un po' gli amici la formuletta è semplice prezzo ipotetico di Stellantis alla data di valutazione finale ipotizziamo abbiamo detto che da 17 e 49 quindi 17 virgola 49 meno il 50% quindi il titolo arrivi a 8 e 75 giusto? quindi formula classica qual è? senza airbag 8 e 75 diviso 17 e 49 per cento quindi cosa ho? 50 preciso di 50 euro con airbag come diventa? quindi ipotizziamo che sia il prezzo di chiusura sia sempre 8 e 75 di Stellantis dovremo dividerlo diviso quello che è la sua barriera quindi in questo caso posta a 10,49 e 40 quindi se noi dovessimo fare 8,75 diviso 10,49 e 40 avremmo per cento avremmo un rimborso di 83 e 30 periodico anziché i 50 vedi come aspetta Riccardo non è finita questi non hanno i primi fissi più il premio più il premio hai ragione eh no ma se fai l'addizione questo paga 0,45 al mese giusto? in un anno sono il 5 il 2 io ho parlato solo del capitale ovviamente non ho fatto non ho conteggiato in questo caso allora se fossero state condizionate come ti dicevo noi non li consideriamo ma siccome sono incondizionate il premio non deve essere pagato quindi andremo a fare 83,3 più 16,2 che sarebbe appunto il 5, qualcosa anno per 3 di fatto andiamo a 99,5 quindi capite che con una perdita del 50% di un titolo questa struttura vi ridà il valore nominale praticamente 99,5 è praticamente quello sì largo circa esatto quindi questo è per come vedete un esempio pratico da ben idea di come funzionano questi prodotti per quello vi dicevo un piccolo panzer perché comunque tiene molto bene con i calcoli che vi hanno detto vi potete fare anche scenari peggiori ovviamente potete ipotizzarli beh sì esatto esattamente uno poi si ipotizza uno scenario fondamentalmente va a verificare quelle che sono che possono essere le situazioni come diciamo però sicuramente è un qualcosa di abbastanza interessante nel senso che comunque ti permette di fondamentalmente nettare quella che è la quella che è la volatilità quella che è la situazione sottostante quindi sicuramente è un prodotto insomma interessante da valutare in portafoglio assolutamente sì però mi sa che non è correttissima questa ric l'analisi di scenario è perché non mi torna per la sbagliata o l'abbiamo messo a sbagliare perché a meno 50 meno 35 non torna proprio quindi qua questa non la guardate sarebbe da riverificare sì sarebbe da riverificare quindi vabbè scusate ci abbiamo sbagliato però l'abbiamo fatta prima l'analisi di scena abbiamo fatta matematicamente l'abbiamo considerata allora fixed cash collect low barrier dai qua magari Riccardo andrei più veloce tanto alla fine quello che ci hai spiegato prima quindi di fatto sono dei prodotti fixed l'abbiamo detto significa che pagano premi incondizionati cioè il premio ve lo beccate per forza low barrier barriere significa che la barriera è profonda no? correggimi ma diciamo nel mondo dei certificati è vero che poi ogni emittente fa un po' a modo suo però diciamo dal 50 in giù no? 50 compreso in giù si considerano low barrier non so se anche voi di unicredit li considerate così o no? chiedo a te sì esatto ma oddio sì diciamo low barrier è un po' un nome commerciale tra virgolette no? che sta identificando una barriera molto profonda però sì noi consideriamo low barrier diciamo intorno al 40-50% di barriera esatto 50 a scendere intendo ovviamente 50-40 30 se c'è ok allora vabbè vi dico giusto io al volo in questo caso il prodotto di cui vi parlerà caro è un fixed cash collect su Enel è un titolo secondo me interessante in questo momento sia da un punto di vista tecnico che fondamentale fondamentale beh perché è molto da un certo punto di vista assimilabile per relazione ai tassi ai titoli grow e quindi ai titoli ai titoli tech perché ovviamente è molto sensibile ai tassi perché sono titoli le utility insomma con un costo del debito molto 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 alto quindi più scendono i tassi è meglio per questo mondo qua tecnicamente vedete che c'è un bel test e spalla Rick che questo l'avevamo fatto vedere anche se ti ricordi all'evento che avevamo fatto in presenza e avevo fatto vedere appunto questa struttura molto grande in formazione che è un test e spalla Rick quindi comunque è un quadro grafico in miglioramento il titolo dovrebbe aver scontato tutto quello che gli poteva succedere dai tassi alla siccità ai problemi in Brasile ai problemi in Spagna con la tassazione di tutto e di più gli è successo nell'ultimo anno e mezzo a questa parlando un po' con con diciamo i nostri analisti dove sapete che Intermonto insomma Vanta insomma uno dei team migliori di più numeroso anche di analisti in Italia specializzato su equity italiano comunque diciamo loro sono un po' più positivi quindi ci sono ancora problematiche ad esempio la siccità come vedete non è una cosa che sta purtroppo poi me finendo però insomma comunque il quadro il page è stato scontato del quadro di miglioramento e l'analisi tecnica pure ci dice che sembrerebbe esserci un'inversione di trend in atto vedremo quindi se andrà avanti secondo me 6 euro il primo target poi andremo a vedere detto questo però lascio la parola a Carola però Carola vedo che non c'è la slide qui vabbè quindi spiegaci tu perché è un prodotto semplicissimo single stock quindi è un fixed quindi paga premi incondizionati mensili a 0,35 appunto della valore nominale in questo caso abbiamo solo una barriera che per il rimborso del capitale a scadenza che è molto profonda fissata al 40 appunto per cento dello strike quindi Enel può perdere fino al 60 per cento appunto dal livello iniziale e qui la durata per curiosità vorrei sentirmi dire la barriera a 40 su Enel Riccardo Carola a che prezzo a che prezzo me lo riuscite a dire te lo dico o Carola ce l'hai sotto mano se vuoi ce l'ho sotto mano io abbiamo davanti il grafico e due e quindici due e quindici capite che non ce l'ho neanche nel grafico quindi effettivamente capito cosa vuol dire una barriera profonda è ovvio signori è ovvio che è un prodotto che è su single stocks quindi molto meno rischio dei prodotti su basket con una barriera così profonda al 40% è normale che vi renda anche meno ma come dicevamo non è una questione di migliore o peggiore è una questione che dovete comprare quello che più si adatta un po' alla vostra view e un po' anche però alla vostra propensione al rischio questo è un bel prodotto assolutamente perché ha una propensione al rischio bassa certo esatto non so se volevate aggiungere qualcosa se no andiamo avanti ma no per me possiamo andare avanti tranquillamente guarda considera appunto che qui in questo caso appunto l'utilizzo è come lo utilizza Enel è stato in debolezza per molto tempo quindi cosa posso fare compro Enel oppure compro un certificato insomma poi si aprono tantissimi scenari quindi insomma assolutamente sì e poi Cash Collect Low Barrier qua praticamente sono come Low Barrier che abbiamo visto prima però non ci sono i premi incondizionati giusto Rick? sì esatto qui diciamo che abbiamo un esempio per un investitore che è più propenso al rischio perché come sottostanti abbiamo Airbnb American Airlines e Carnival allora qui abbiamo il consensus che si vede che è un po' misto infatti abbiamo su Airbnb che è misto tra buy e hold positivo su Carnival e invece prevalente su hold di American Airlines la matrice di correlazione però è migliore rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza perché abbiamo l'indice di correlazione più alto che è dello 0,77 tra Carnival e American Airlines ma buona anche tra quella tra Carnival e Airbnb inferiore è quella tra American Airlines e Airbnb ma comunque con uno 0,57 quello che spicca di questo prodotto è sicuramente la volatilità perché abbiamo la volatilità di Carnival che è al 60% e anche comunque quella di Airbnb e American è quella è al 45% che è comunque più elevata rispetto ai titoli che abbiamo visto in precedenza proprio per questo motivo Unicredit è riuscita ad estrapolare un rendimento più elevato perché questo prodotto paga premi mensili che in questo caso invece sono condizionati dell'1,20% appunto del valore nominale che si traducono in un 14,40% appunto annuo il livello barriera per incassare i premi e il rimborso del capitale a scadenza è posto al 40% quindi sempre un livello molto profondo prevede la scadenza anticipata mensile da novembre 2023 sempre con effetto step down e la durata è uguale al prodotto di prima quindi scade a febbraio 2025 al momento abbiamo Airbnb che è sopra lo strike mentre abbiamo American Airlines e Carnival che sono sotto più o meno del 10% appunto dal livello di strike anche in questo caso abbiamo lo scenario a scadenza vediamo Michele eccolo che appunto si vede come prevale appunto la barriera al 40% perché vediamo comunque prevalere il colore verde fino appunto a una perdita al 60% appunto dai livelli di strike non so Riccardo se tu vuoi aggiungere qualcosa su questo prodotto no in realtà sei stata veramente completissima carola insomma io direi semplicemente come si vede insomma tante alternative di prodotto più o meno redditizie e con più o meno protezione insomma hai fatto vedere hai insomma spiegato benissimo tutte le caratteristiche tutti i vari sottostanti e quant'altro quindi insomma diciamo che abbiamo detto secondo me è veramente tutto su questo ok e quindi io concluderei con un altro appunto prodotto sempre della stessa tipologia però un po' meno rischioso perché qua invece puntiamo sempre sull'Italia in particolare su Terno Atenaris e Banco BPM qui infatti i premi sono leggermente più bassi ma comunque dello 0,85 il livello barriera qua è leggermente più alto quindi al 50% quindi i titoli possono perdere fino al 50% dal valore iniziale per appunto per pagare appunto gli investitori i premi mensili e il rimborso del capitale a scadenza in questo caso a differenza del prodotto precedente la scadenza anticipata osservazione semestrale a partire da novembre 2023 quindi ogni sei mesi questo prodotto può scadere sempre con effetto step down e la durata è di un anno in più infatti scadrà nella 2026 e con questo appunto concludiamo la scelta dei prodotti di oggi ok quindi anche qua siamo su un rendimento comunque a doppia cifra perché 0,85 mensile significa un 10 e 2 anno qui barriera al 50% però insomma comunque è una scelta di titoli anche molto molto solidi va bene Riccardo io direi che insomma gli spunti ne abbiamo dato spero che insomma per chi ci ha ascoltato il webinar sia stato interessante abbiamo appunto raccolto un po' di spunti sia sul mercato che sui prodotti quindi non so io chiuderei se non avete altro da aggiungere lato mio no anzi ti ringrazio ringrazio te ovviamente anzi ringrazio prima Carola e poi ringrazio te insomma per per l'invito sicuramente è stato comunque un'oretta piena di spunti insomma pieni di spunti pieni interesse poi ovviamente noi lo ricordiamo sempre non sono consigli per gli acquisti poi ognuno deve scegliere il prodotto che fa più al caso proprio però sicuramente questo ci permette di capire come fondamentalmente un prodotto che può essere la stessa famiglia può avere varie sfaccettature può essere utilizzato in differenti modi quindi più o meno rendimento più o meno protezione quindi insomma diciamo secondo me abbiamo veramente toccato quindi tutti i punti quindi ringrazio prima Carola e poi te furbacchione va bene grazie ragazzi e ovviamente grazie a tutti che ci hanno seguito ringrazio prima Riccardo quindi mi sembra giusto e va bene grazie Riccardo grazie anche a te Michele e colgo l'occasione per augurare una buona Pasqua a tutti quelli che ci stanno seguendo benissimo buona Pasqua a tutti grazie mille buona Pasqua buona serata grazie a tutti grazie a tutti